Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Piume, chi è che non le ama? Noi di Tessiland, come sapete, amiamo gli accessori e tutto quello che può donare un tocco di unicità ed eleganza alle nostre creazioni. Parliamo delle frange in piuma naturale. Pronte a scoprirle insieme a noi? Piume, chi è che non le ama? Con tutte queste colorazioni fare degli abbinamenti originali ma anche eleganti, unici, tono su tono o a contrasto sarà davvero un gioco da ragazzi. Le frange potranno infatti essere applicate su tantissime creazioni. Pensate ad esempio ai bordi di maglie e pantaloni, ma perché no anche alla creazione di accessori come cinture, fermagli per capelli, ma anche accessori per la casa. Pensate ad esempio a dei cuscini per il vostro salotto. Oppure ovviamente per le borse. Pensate dalle pochette, le borse in juta. Insomma, davvero si adattano a tutti i tipi di progetto. Lungo i bordi, messe in maniera singola magari, oppure raddoppiate. Quindi per creare un piumaggio più voluminoso. Le opzioni saranno davvero tantissime. Ed eccola qui la nostra frangia di piume. Si tratta di piume naturali, come possiamo vedere a piuma larga. La lunghezza della frangia sarà di un metro, mentre invece l'altezza è di 15 centimetri all'incirca. Presenta poi in alto un bordino in raso che ha l'altezza di circa un centimetro. Grazie a questo bordino l'applicazione sarà semplice, con macchina da cucire ma anche a mano. Sul bordino potremo avere un effetto mal tinto, che è da considerarsi una caratteristica e non un difetto del prodotto, dovuto proprio alla modalità di tinteggiatura di questo prodotto. Potrete valutare sia un'applicazione singola oppure per un effetto più voluminoso, particolare, anche ripiegandola su se stessa. Il colore è molto brillante, quindi queste frange renderanno davvero unico qualsiasi progetto che realizzerete. Quindi un unico accessorio che racchiude in sé lo stile, l'eleganza, la moda del momento e la raffinatezza. Non vi resta quindi davvero che scegliere semplicemente dove applicarle. Arrivati a questo punto io vi ricordo di attivare la campanella, così da non perdere nessuna novità, ed iscrivervi al nostro canale YouTube. Vi ricordo anche tutti i nostri canali social, la pagina Facebook Meglio di Maglia, Instagram, TikTok, Pinterest e il nostro blog. Al prossimo Tessila News!